Saad Hariri dà il suo via libera all'elezione di Michelle Aoun alla presidenza del Libano, un semaforo verde che potrebbe metter fine al lungo stallo durato oltre due anni. Una scelta che per Hariri non è facile. L'ex primo ministro, che è il principale rappresentante del fronte sunnita, considerato vicino all'Arabia Saudita, apre all'ex generale un cristiano maronita considerato vicino agli sciiti Hezbollah, a loro volta alleati del presidente siriano Assad, di cui Aoun era stato però acerrimo nemico. Nel corso della nostra conversazione abbiamo raggiunto un accordo per rilanciare lo Stato, le istituzioni, l'economia, i servizi di base, il lavoro e per dare alle donne, agli uomini libanesi, la possibilità di vivere una vita normale, ha detto Hariri, che poi ha aggiunto di voler così dissociare il Libano dalla crisi siriana. Ed è proprio il conflitto siriano da aver riacceso le rivalità interne in Libano, tanto da costringere al rinvio di quattro anni delle elezioni parlamentari, inizialmente previste dal 2013, e a lasciare il paese senza presidente dal 2014. La soluzione trovata con l'elezione alla presidenza dell'81enne generale Aoun trova ancora la forte opposizione di Nabi Iberri, presidente del Parlamento ed esponente dell'altro movimento sciita, Amal.